Gli astri, le stelle, la fortuna, l'almanacco del giorno, eccoci di nuovo insieme. 4 settembre, bentrovate, bentrovati. Oggi è festa in molte zone del nostro paese, Santa Rosalia. L'aforismo è se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita non sarebbe più sopportabile. Anche oggi abbiamo un compleanno, una cantante, veniva chiamata anche cantantessa una volta, da Carmen Consoli, nata a Catania nel 1974. Entriamo nel mondo delle stelle, sentiamo i consigli dall'Ariete ai pesci. Ariete, partirà con un litigio la giornata, ma fortunatamente si concluderà con una sonora risata. Chi vi ama vi tende una mano e giocando con i vostri malumori vi ha fatto intendere che la vita è molto bella se si è capace di sorridere di ogni piccola cosa. Mettete in pratica il suggerimento. Toro, vi sentirete appoggiati in tutto e per tutto dalla vostra famiglia e questa sensazione di calore intorno a voi vi manderà invisibilio. Sentirvi circondati da tanto amore in effetti fa sempre molto piacere e queste tenerezze vi hanno sempre fatto impazzire. Grande serenità per voi. Gemelli, forse la giornata non sarà proprio l'ideale, ma muovervi e fare sport risulterà per voi un'ottima idea. Sarà la giusta possibilità per allontanare ogni pensiero cupo e scaricare mano a mano le tensioni fino ad oggi accumulate. Già avvertirete nell'aria momenti migliori. Cancro, la dolce pigrizia vi tenterà fino a tarda mattinata. Anzi, per voi oggi sarà ancora più piacevole, perché vi sarete organizzati una giornata da vivere solo con voi stessi e i vostri interessi. Che gioia! Leone, anche oggi l'umore risulterà pessimo. Vi sentirete irritati da tutto e da tutti. Fate attenzione perché il vostro atteggiamento infastidisce chi è intorno a voi. Scegliete bene le persone o gli amici con i quali trascorrere la serata. Solo chi vi conosce può tirarvi fuori dal nero pessimismo. Vergine, ritroverete fortunatamente il buon umore. La vostra condizione fisica è sicuramente eccellente e potrete trascorrere la giornata serenamente accanto ai vostri familiari. Per oggi sentirete la necessità di tornare al calore dei sentimenti più sereni. Anche la serata la trascurerete in casa. Bilancia, lentamente ritornerà il sereno. Lo sentirete nascere proprio dentro di voi per espandersi poi nei rapporti con la vostra famiglia e gli amici. Prendere iniziative per stare in allegria vi sembrerà finalmente la cosa più saggia del mondo. Condividete l'allegria generale. Scorpione, evitate però di mangiare troppi dolci. Anche se qualcuno li ha preparati proprio per soddisfare la vostra golosità. Poi naturalmente sarà dolce anche il resto della giornata tra gli affetti più cari e la serata ottima con chi amate. Sagittario, non accettare l'invito di amici. Vi ha reso solo più malinconici e chiusi. Cercate comunque di uscire per strada. Anche passeggiare potrà aiutarvi a stare meglio. Capricorno, notizie da persone lontane vi porteranno novità piacevoli. Forse qualcuno che non vedevate da tempo torna finalmente a casa. O forse ci saranno opportunità di incontri con persone lontane. Certamente si verificheranno situazioni molto piacevoli ed emozionanti. Preparatevi dunque con trepida ansia. Acquario, energia ancora instabile ma comunque in netta ripresa. Incontrerete persone nuove ad una festa che potrebbero esservi d'aiuto anche nella vostra professione. Datevi da fare per ampliare il raggio d'azione e quindi iniziare nuove relazioni che potrebbero diventare molto utili. Pesci, lasciate da parte ogni progetto per quanto riguarda il lavoro e i vostri guadagni e sentitevi unicamente soddisfatti di come è trascorsa la vostra settimana. L'appuntamento si rinnova con la fortuna domani.